Ciao ragazzi e ben ritrovati, sono particolarmente felice di poter fare questo video perché voglio condividere con voi una serata bellissima che ho passato a Roma in compagnia di amici, fratelli che ho conosciuto grazie alla simulazione. E questi amici sono Massimiliano Achilli, Gabriele Romano, Aulo Cacciatore che già questi nomi dovreste già conoscerli se mi seguite, che fanno parte della comunità di SimDrivers e il grande Mirko De Santis che ha risposto presente al mio invito a venire a questa serata e altri due amici di Aulo Cacciatore simpaticissimi che saluto e ovviamente c'era la mia compagna Isabella. Ragazzi è stata un'emozione pazzesca poter rincontrarli fisicamente, anche se io li avevo già visti comunque tramite foto, video oppure Discord, qualche videoconferenza che si fa, però non ha lo stesso valore una cosa digitale. E anche Mirko, chi è nella simulazione, chi non conosce Mirko De Santis, il grande esperto del mondo del Direct Drive. È un'emozione particolare perché al di là della simulazione poter concretizzare fisicamente queste amicizie, incontrarli, toccare gli amici, ha un valore pazzesco ragazzi. È una cosa, è un'emozione indescrivibile perché in questa occasione qua si è racchiuso tutte quelle emozioni che si sono condivise in questi anni perché stiamo parlando di persone che conosco adesso da anni, di persone che hanno dei valori comuni ai miei, delle persone con cui ci siamo sparati delle risate e dei momenti fantastici, ma sono anche delle persone che mi sono state vicine nei momenti difficili della mia vita come succede a tutti. Quindi negli alti e bassi queste persone sono state presenti e poterle incontrare mi ha fatto veramente molto piacere. Al di là quindi diciamo del fattore emozionale, poi è stato bellissimo condividere una serata in cui abbiamo mangiato benissimo in questo locale a Trastever. Ci siamo sparati delle risate pazzesche, è stato bello poter commentare alcune cose tecniche con Mirko. Veramente molto emozionante, sono davvero contentissimo. L'unica pecca è che è durato poco, infatti poche ore non ti lasciano il tempo di assaporare quello che è comunque la presenza degli amici. Infatti ci siamo lasciati con la promessa di cercare di organizzare un qualcosa per ritrovarci magari con una giornata piena, non so farci andare sul circuito di Valle Lunga, andare in un centro di simulazione, andare in un cartodromo, inventarci qualcosa. Io voglio rinnovare i miei ringraziamenti ai ragazzi che si sono presentati, a Mirko, a Daulo, a Gabriele e in particolare a Massimiliano perché Massimiliano è stato veramente gentilissimo, è venuto a prendermi a Ostia Antica, ragazzi, mi ha portato a Roma e poi mi ha riportato in India, è stato veramente gentilissimo ed è stato un enorme piacere per me condividere questa serata con loro. Sono delle persone fantastiche che confermano il pensiero che avevo di loro. Quindi grazie infinite, spero che si possa rifare e invito chi fa parte della comunità la prossima volta che magari facciamo un ritrovo così, se siete nella zona non esitate ad unirvi a noi perché è sempre un piacere ragazzi, a parte mangiare un boccone insieme, ma incontrarci è veramente fichissimo. Niente ragazzi, spero che questa condivisione di questa serata fantastica con questi amici della simulazione vi sia piaciuto e niente ragazzi, come al solito iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su, ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto, ciao!